Buongiorno, sono Angioletta Voghera, insegno urbanistica presso il Dipartimento Interarteneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino e collaboro sui contratti di fiume con la ex provincia di Torino, oggi città metropolitana, dal 2008. Per inquadrare il tema del ruolo dei contratti di fiume per la valorizzazione del territorio e del paesaggio occorre inserire questo tema all'interno del quadro di riferimento più generale della pianificazione e gestione delle risorse idriche che sono state introdotte da due leggi essenziali nel nostro Paese, la legge 183 dell'89 e il DL 152 del 2006. La legge 183 dell'89 istituiva i piani di bacino e ha contribuito a salvaguardare le risorse locali, a ridistribuire le responsabilità tra gli attori ai diversi livelli di governo del territorio e coinvolti nella gestione delle acque, costruendo azioni basate sulla sussidiarietà, sulla sostenibilità e sulla cooperazione. Il DL 152 del 2006 è essenziale nel ricepimento della direttiva acque e ha istituito i distretti che accorpando più vaccini assumono la lettura ecosistemica del territorio come metodo per il governo delle acque. Quindi una grande trasformazione tra l'89 e il 2006 e oggi e in effetti la pianificazione e gestione delle risorse idriche si è molto ampiata sia dal punto di vista delle competenze nella costruzione della conoscenza che non sono solo più tecniche e settoriali ma anche nelle competenze di programmazione e di pianificazione che devono essere sviluppate attraverso un'azione di cooperazione tra autorità ed enti territoriali e autorità di distretto per garantire l'integrazione tra gli obiettivi e le azioni promosse dai piani di distretto e i piani locali, i piani di governo del territorio, i piani regolatori. Ma anche si è ampliata dal punto di vista dei contenuti che integrano oggi la mitigazione, la messa dei rischi, la messa in sicurezza del territorio con politiche molto articolate di gestione e fruizione delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche. Oggi, soprattutto a partire dal DL 152, si è sperimentata un'azione integrata di pianificazione che vede e che vedrebbe il piano di distretto come parte integrante di una strategia di pianificazione ambientale generale di carattere intersettoriale e multilivello. E' proprio a partire da questo quadro metodologico che i contratti di fiume vengono introdotti all'articolo 68 bis in un apposito emendamento aggiunto al Codice dell'Ambiente nel 2015 quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata. Sono uno strumento che oggi è consolidato dal punto di vista metodologico operativo ed è stato via via riconosciuto da strumenti di natura diversa. Si contano in Italia circa 500 contratti di fiume in corso, in attivazione. Ce lo ricordavano al Tavolo Nazionale del Contrato di Fiume che si è svolto a febbraio a Roma quest'anno. Uno strumento che, se guardiamo ai riconoscimenti all'interno della nostra regione, Piemonte è riconosciuto naturalmente a livello sovralocale dal piano di Bacino come misura supplementare per raggiungere gli obiettivi della direttiva Acque, dal piano territoriale regionale come strumento per costruire politiche integrate e condivise per la gestione e la pianificazione dei territori fluviali, dal piano di tutela delle acque come strumento per la gestione integrata delle risorse idriche e degli ambienti fluviali ad essi connesso e dal PSR che identifica i contratti di fiume come luoghi prioritari di finanziamenti. Se guardiamo ai contenuti e agli obiettivi di questo strumento dobbiamo fare riferimento alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, siglata a Milano durante il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume nel 2010, in cui si ricorda che il contratto di fiume è uno strumento che deve promuovere la sussidiarità verticale e orizzontale per garantire uno sviluppo locale partecipato, quindi basato sull'inclusione degli attori del territorio, e per garantire lo sviluppo sostenibile dei territori fluviali. In Italia in questo momento è un tema rilevante ed è in Costituzione presso il Ministero dell'Ambiente un osservatorio nazionale legato al Tavolo Nazionale sui Contratti di Fiume. Andiamo invece alla Regione Piemonte. In Piemonte il contratto di fiume è introdotto dal piano di tutela delle acque, che promuove la salvaguardia delle acque e degli ecosistemi, comprendendo l'alveo, le sponde, le aree perifluviali, promuove la compatibilità degli usi e la verifica dei possibili impatti delle pressioni insediative sui territori fluviali e promuove comportamenti sociali e culturali legati alla gestione sostenibile delle risorse idriche. All'articolo 10 introduce i contratti di fiume come metodo, e questo ce lo ricordano le linee guida piemontesi, come metodo di governo del territorio innovativo, volto ad individuare strategie, azioni e regole condivise per la riqualificazione ambientale, paesaggistica e socio-economica di un bacino idrografico. Quindi uno strumento ampio nelle competenze conoscitive, programmatorie e progettuali, non deve essere inteso come un ulteriore livello di pianificazione, ma come un vero e proprio metodo innovativo che richiama nelle sue caratteristiche, soprattutto se guardiamo le esperienze internazionali, anche a quelle francese, richiama l'importanza e l'attualità di un progetto contemporaneo anche dell'urbanistica per la qualità del paesaggio e per la valorizzazione della qualità di vita della società, un progetto che deve necessariamente mettere in gioco il rapporto tra l'uso e la gestione delle risorse ambientali e paesaggistiche, chiamando in gioco le comunità locali e il paesaggio per la pianificazione e la progettazione territoriale. Un progetto che però anche nel caso dei contratti di fiume talvolta stenta a trovare attuazione per difficoltà di carattere economico o amministrativo. In ogni caso questo è un metodo molto interessante di governo del territorio che contribuisce ad attuare la direttiva 2060, la direttiva Acque, utile per comporre i conflitti e gli interessi locali attraverso la costruzione di processi negoziali che devono essere capaci di far dialogare i diversi strumenti di programmazione e progettazione territoriale e paesaggistica uno strumento essenziale per costruire strategie e regole condivise che trovano riferimento nel piano d'azione del contratto di fiume, strategie e regole condivise che definiscono un progetto di territorio e di paesaggio valorizzando in un'ottica strategica che mette in gioco discipline e competenze diverse dalla geologia all'idraulica, all'urbanistica, alla progettazione paesaggistica, alla biologia, alla botanica, all'agronomia e un progetto che deve essere transcalare, deve essere capace di indirizzare la valorizzazione del territorio a scala vasta come alla scala locale. Le azioni che questo strumento promuove, le strategie condivise, toccano temi diversi dalla sicurezza del territorio, del bacino, alla valorizzazione della qualità delle acque e alla razionalizzazione del loro uso, all'integrità ecologica delle fasce fluviali che è un tema molto importante che trova riferimento fortemente nei contratti di fiume e anche la valorizzazione del paesaggio fluviale. Quindi non è solo il contratto di fiume un metodo di governo del territorio ma è anche un importante metodo per il progetto di paesaggio, un progetto condiviso perché si basa sull'inclusione degli attori e delle comunità locali nella definizione di uno scenario strategico che deve poter indirizzare e integrare le progettualità dei territori, quelle esistenti e quelle che vengono definite attraverso il processo di consultazione e di condivisione degli obiettivi per giungere alla costruzione di visioni che devono essere territorializzate che devono coinvolgere il fiume e il territorio limitrofo al fiume cercando di legare il più possibile le azioni di difesa e tutela delle sponde e di valorizzazione della qualità delle acque con azioni più ampie che coinvolgono un territorio più esteso per la valorizzazione ambientale, paesaggistica e anche architettonica di alcuni singoli e beni manufatti che si trovano prossimi al territorio fluviale. È un metodo importante per il progetto di territorio e di paesaggio che è stato capace e capace di superare le tradizionali forme di governo delle acque basate su rapporti di tipo top down, di tipo gerarchico e soprattutto il carattere tecnico e settoriale in cui era confinata la pianificazione e la gestione delle risorse idriche. E accanto a questi aspetti più legati all'innovazione che il contratto di fiume ha prodotto possiamo riconoscere la capacità di tentare di fornire delle indicazioni che possono trovare riferimento nella pianificazione d'area vasta per esempio nel piano territoriale di coordinamento provinciale o nei piani regolatori oppure in progetti locali. Quindi un metodo che ha una molteplicità di possibilità di uso. Se guardiamo attraverso una ricerca che abbiamo svolto presso il Politecnico di Torino alle pratiche e le leggiamo, alle pratiche di contratti di fiume in Italia e tentiamo di leggerle in modo comparativo possiamo riconoscere che i contratti di fiume analizzati sono caratterizzati dalla capacità di essere inclusivi cercando di coinvolgere i soggetti più eterogenei possibile del territorio cercano di essere integrati per le tematiche che comprendono dalla sicurezza del fiume alla qualità delle acque fino alla valorizzazione degli ecosistemi e del paesaggio fluviale e anche integrati per le forme di finanziamento che utilizzano per attuare gli scenari che il contratto di fiume definisce e sono anche stati capaci di orientare in misura diversa naturalmente la programmazione, la pianificazione e il progetto di territorio. Se li guardiamo comparativamente dai casi emerge che ci sono alcuni elementi riconducibili al processo comuni i contratti di fiume naturalmente coinvolgono attori pubblici ma anche attori privati sono caratterizzati in genere dalla presenza di un organo decisionale di orientamento strategico che è la cabina di regia da un organo della partecipazione allargata che può essere l'assemblea di bacino il forum del contratto per esempio che in genere tende a raccogliere e a coinvolgere gli stakeholders con maggior peso più limitata è la partecipazione della popolazione e dei cittadini comuni. Se guardiamo i contratti di fiume dal punto di vista dei contenuti e delle progettualità che sono in grado di promuovere possiamo riscontrare una prevalenza dei temi legati alla qualità ecologica del territorio e alla sicurezza dal rischio idraulico e notiamo e quindi una comprensione degli aspetti di valorizzazione del paesaggio che è legata prevalentemente alla valorizzazione della fruizione alla costruzione per esempio di piste ciclabili. Poi possiamo anche notare una scarsa territorializzazione delle azioni sono pochi i contratti di fiume che territorializzano il piano di azione e le sue strategie e obiettivi in uno scenario di master plan e notiamo anche che c'è raramente la valutazione ambientale strategica del contratto di fiume viene attivata ex ante in itinere ed esposta e soprattutto più debole è l'individuazione di azioni di monitoraggio degli esiti. Quindi uno strumento complesso nei contenuti e nei metodi che se guardiamo le esperienze analizzate si caratterizza per una conoscenza del territorio che è una conoscenza tradizionale che guarda allo stato delle acque alla loro qualità e alle caratteristiche idromorfologiche del territorio una conoscenza che legge il territorio e il paesaggio attraverso l'interpretazione del sistema insediativo della struttura ecologica del territorio guarda i vincoli ai beni paesaggistici identifica i caratteri percettivi e per la fruizione del paesaggio legge e interpreta il sistema socio-economico attraverso una interpretazione delle tendenze demografiche e del sistema economico e produttivo e turistico. Per quanto concerne l'aspetto del coinvolgimento e quindi della consultazione di un pubblico vasto di cittadini normalmente si coinvolgono e partecipano gli stakeholder con maggior peso i processi di inclusione vedono un coinvolgimento delle associazioni locali e quasi tutti un'esperienza con le scuole di diverso ordine e grado coinvolgimento dei circoli degli anziani in alcuni casi per ampliare la gamma di soggetti potenzialmente interessati e coinvolgibili nel processo decisionale si utilizzano piattaforme, internet e strumenti e tecniche innovative. Per quanto concerne invece l'aspetto progettuale gli obiettivi, le strategie sono definite nel piano d'azione che non sempre è capace di definire le modalità di attuazione di ciascuna singola strategia e non sempre identifica i soggetti coinvolgibili o potenzialmente interessati o ancora di più forse i responsabili dell'attuazione di ogni singola azione. Della valutazione abbiamo già detto l'aspetto forse più importante è la definizione di un masterplan un masterplan capace di territorializzare le azioni di rendere esplicito dal punto di vista spaziale l'articolazione delle azioni facendo vedere agli attori locali i possibili conflitti e anche i possibili interessi quindi ha un ruolo importantissimo nell'esplicitare lo scenario strategico e nel renderlo visibile per gli attori del territorio da questo punto di vista un'esperienza interessante che ho seguito per l'allora provincia di Torino con la collega Roberta Ingaramo ha riguardato il contratto di fiume del Sangone il contratto di fiume del Sangone attraverso il lungo processo di costruzione del piano di azione e degli scenari strategici ha portato attraverso alcuni workshop con l'allora Facoltà di Architettura siamo nel 2008 quando si sono svolti questi workshop alla definizione di un concorso di progettazione interdisciplinare aperto non solo alla Facoltà di Architettura che mi vedeva coinvolta con Roberta Ingaramo ma anche alla Facoltà di Biologia e di Agraria e che ha portato a questo tentativo sperimentale di territorializzazione delle azioni quindi della costruzione di un master plan che può diventare lo scenario strategico che integra le visioni derivate dal processo partecipativo e che è di fatto uno step importante nel processo di condivisione degli scenari del contratto di fiume nel contratto di fiume del Sangone il master plan quindi ha un ruolo importante anche perché definisce una strategia complessiva di valorizzazione del fiume che cerca di mettere insieme di integrale la visione tradizionalmente legata all'asse fluviale ad una lettura e ad una definizione di scenari strategici trasversali al fiume che vengono esplicitati attraverso una serie di sezioni trasversali di transit in session che sono localizzati in nodi significativi e problematici della struttura paesaggistica quindi una dal fiume verso il territorio entrando anche nell'ambito rurale naturale ed urbano si definisce una attraverso il master plan una strategia complessiva per l'ecosistema fiume che non è solo più volta promuovere la qualità delle acque controllare le captazioni ma tentare di riprogettare i manufatti e sponde fluviali sperimentando tecniche dell'ingegneria naturalistica gli studenti in particolar modo di biologia sono stati impegnati in queste sperimentazioni ed è anche un master plan che ha tentato di far interagire fortemente il sistema ambientale paesaggistico del fiume con quello del territorio rurale naturale con quello legato alla fruizione e alle attività di servizio per cercare di promuovere una valorizzazione del territorio fluviale anche socio-economica cercando di connettere, integrare mettere in relazione aree, oggetti e sistemi del territorio fluviale e del territorio naturale, rurale e urbano il master plan cerca di individuare sistemi di funzioni e di destinazioni d'uso coerenti, soprattutto dei beni e delle aree sottutilizzate dei beni e delle aree dismesse coerenti con le esigenze di sviluppo socio-economico cercando di sperimentare alcuni e di provare ad elaborare alcuni progetti di trasformazione di aree con attenzione alla sostenibilità ha cercato anche di spingersi forse un po' più in là quindi dalla scala vasta è di fatto un progetto di paesaggio perché tocca sia la scala vasta sia l'ambito locale quindi a scala più locale ha tentato di definire modelli insediativi e studi tipologici capaci di legare il costruito con gli spazi vuoti naturali, rurali e artificiali cercando di mettere in relazione la città il costruito con la natura con l'agricoltura con gli spazi di fruizione e proprio a partire però dal restauro dalla ridefinizione dalla riqualificazione dei margini edificati quindi il tema del rapporto tra città e fiume sta al centro di queste visioni innovative e i tentativi sono stati anche nella direzione di provare a sperimentare anche alcune tipologie alcune tecnologie sostenibili che oggi diremo attente al cambiamento climatico il contratto di fiume del Sangone è significativo anche per alcuni esiti il processo di costruzione del scenario di azione il processo di masterplan è stato poi utile anche nella definizione del masterplan strategico di Corona Verde in cui hanno trovato riferimento e finanziamento alcuni progetti ma è stato soprattutto significativo perché ha portato un comune che partecipava attivamente al contratto di fiume il comune di Bruino a decidere di fare una variante al proprio piano regolatore a partire dalle indicazioni di carattere strategico legate alla valorizzazione del paesaggio naturale agricolo nella direzione di costruire la rete ecologica locale è chiaro che la variante al piano regolatore di Bruino che ha portato anche alla definizione di una normativa specifica per rendere attuativa la rete ecologica alla scala locale e costituisce un pezzo una parte significativa della rete se vogliamo significativa della rete ecologica che si appoggia al Sangone ma è significativa soprattutto come elemento di attenzione perché ha sollecitato il comune a fare delle scelte che erano lontane dagli obiettivi che il comune si era dato fino a quel momento quindi il contratto di fiume ha portato al centro dell'attenzione amministrativa la necessità di valorizzare i servizi pubblici ma con un'attenzione anche al tema della rete ecologica locale e della valorizzazione paesaggistica dei luoghi prossimi al canale Sangonetto in un momento in cui spesso si mette in dubbio l'efficacia dei contratti di fiume il caso di Bruino può essere una sperimentazione significativa ma ancor di più i contratti di fiume giocheranno un ruolo importante in relazione alla strategia nazionale di adattamento per il cambiamento climatico del 2015 è in corso del nostro paese è in corso la definizione del piano nazionale di adattamento climatico e i contratti di fiume sono stati individuati come uno strumento essenziale per produrre adattamento per traghettare i territori verso la resilienza che è certamente ormai diventata una parola ombrello a sostituzione un'utopia somantica direbbe la mia collega Patrizia Gabelini che sostituisce e che integra quella di sostenibilità ma sono uno strumento certamente rilevante per creare comunità e territori resilienti per costruire i paesaggi e i beni culturali con riferimento alla strategia UN Habitat perché possono prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare la capacità di resilienza di comunità e territori possono garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche tra territorio urbano e territorio rurale e assicurare la gestione sostenibile e la custodia dei territori del paesaggio e del patrimonio culturale quindi sono uno strumento essenziale in questo momento di carattere volontario per migliorare la qualità delle acque e degli ecosistemi rafforzare la difesa del suolo e promuovere una gestione del territorio sostenibile e capace di fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici quindi sono uno strumento di grande attualità oggi sono uno strumento che consente di adottare nella propria cornice strategica azioni di mitigazione e di adattamento che possono contribuire a controllare le emissioni e a superare la vulnerabilità dei sistemi naturali e ridurre gli impatti sul clima attraverso azioni locali definite all'interno dello scenario del contratto di fiume che possono avere esiti globali a partire da un processo che è quello definito dal metodo del contratto di fiume che è capace di integrare le conoscenze in modo interdisciplinare di basarsi su un approccio partecipativo e inclusivo di mettere in relazione misure e necessità locali con la necessità di integrare le politiche ai diversi livelli di governo del territorio e di gestione delle acque in un'ottica intersettoriale e quindi il contratto di fiume oggi può essere visto come un dispositivo di resilienza come una forma infatti di pianificazione negoziata che si attiva attraverso un accordo volontario che mobilita la partecipazione di tutti i principali attori istituzionali e sociali di un bacino di una regione fluviale al fine di definire un quadro strategico coerente e comune i contratti di fiume sono infatti uno strumento importante di governance di governance territoriale basata sulla partecipazione che può portare ad avviare dei processi di coevoluzione del sistema territoriale di adattamento del sistema territoriale e di trasformazione del sistema territoriale verso la resilienza rispetto al cambiamento climatico ma non solo anche rispetto ai cambiamenti e alle trasformazioni del sistema verso traiettorie di antifragilità direbbe Taleb proprio perché è in grado di contribuire a migliorare la conoscenza che le comunità devono necessariamente avere delle condizioni territoriali e degli effetti delle attività umane a partire dal territorio fluviale perché è essenziale per aumentare la consapevolezza sociale per includere la società nell'identificazione ma anche nell'attuazione di soluzioni per la valorizzazione del fiume per l'adattamento climatico per la resilienza è essenziale per incoraggiare cambiamenti innovativi nella pianificazione per costruire una convergenza tra strategie top down e pratiche bottom up per trasformare azioni discontinue che possono avvenire da diversi provvedimenti e diverse politiche in un modello di sviluppo sistemico e organizzato del territorio fluviale in rapporto al territorio naturale urbano e rurale è uno strumento importantissimo per promuovere sostenibilità attraverso uno sviluppo che si basa sulla valorizzazione e la protezione del paesaggio e che si focalizza sulle opportunità locali e sulla loro messa in sinergia in strategie condivise è uno strumento che quindi è in grado di risolvere questioni complesse attraverso la produzione di un processo di adattamento e di coevoluzione del territorio del bacino fluviale il contratto di fiume è uno strumento importante per la resilienza perché è uno strumento riflessivo capace di avviare un processo incrementale per la riqualificazione del territorio a partire dai punti di forza dai punti di debolezza dalle opportunità e minacce che si riconoscono sul territorio è uno strumento flessibile è uno strumento di governance non è un piano definito che consente una maggior ridefinizione forse una continua ridefinizione delle azioni attraverso un master plan e dei piani di azione a cui si possono legare più progetti locali è uno strumento creativo uno strumento che è capace di creare networking tra azioni top down e bottom up e tra strategie istituzionali di diversa scala tra le strategie di scala vasta con i progetti locali aumentando anche la creatività del sistema e delle comunità locali e la loro capacità di innovarsi e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio è uno strumento è un metodo inclusivo che si basa su un accordo volontario che garantisce non solo un processo di partecipazione degli attori alla definizione degli scenari ma anche è un processo di apprendimento e di costruzione del consenso ma anche di conoscenza del territorio di ascolto del territorio che può essere supportato anche dalle azioni dalle pratiche di auto-organizzazione è uno strumento integrato che mette in sinergia diverse misure territoriali e paesaggistiche previste a diversa scala da diversi strumenti dai piani regionali a quelli locali costruendo una visione integrata capace di identificare i possibili impatti a lungo e breve termine delle strategie e delle azioni è uno strumento robusto che contribuisce a dare attuazione a sviluppare azioni di rigenerazione ma anche di valorizzazione di rinnovo dei territori attraverso l'impegno delle comunità che è l'aspetto centrale dei contratti di fiume e quindi i contratti di fiume sono certamente associati alla costruzione di processi di valorizzazione del territorio resiliente coevolutivo antifragile perché sono capaci di mettere insieme di combinare processi evolutivi innovando il sistema verso nuove traiettorie infatti promuovono per i territori fluviali la resilienza attraverso la costruzione di una resilienza sociale che costruisce un social network di fatto multilivello e soluzioni innovative che si basano su una pianificazione collaborativa e su un processo di progettazione e di partecipazione una resilienza ecologica che è capace infatti di definire misure ambientali e paesaggistiche per la qualità del territorio e del paesaggio ma anche per la sicurezza e la fruibilità del fiume e che consentono di valorizzare di far crescere la biodiversità e i servizi ecosistemici è una resilienza di government capace uno strumento capace di attivare processi flessibili e incrementali capace di cambiare nel tempo di innovarsi anche attraverso l'integrazione e la capacità di intercettare iniziative bottom-up e di attivare e avviare pratiche multiscalari nella direzione di sottolineare l'importanza dei contratti di fiume per l'adattamento al cambiamento climatico entra in gioco un'altra esperienza sviluppata da me con l'ex provincia oggi città metropolitana di Torino attraverso attività di ricerca di tirocini svolte negli anni con il mio dipartimento con il DIST che ha portato alla definizione di un piano delle compensazioni ambientali che è uno strumento non solo importante per l'adattamento climatico dei territori della Stura dove si è sperimentata questa pratica innovativa ma è uno strumento anche importante perché contribuisce alla realizzazione delle reti verdi e blu che sono uno degli approcci di carattere progettuale che viene ricondotto all'adattamento al cambiamento climatico e all'approccio resiliente alla pianificazione e alla progettazione del territorio quindi il piano delle compensazioni ambientali che è stato sperimentato per la prima volta da città metropolitana di Torino con me sul contratto di fiume della Stura è un importante strumento di costruzione della resilienza è uno strumento che viene utilizzato per valorizzare tutelare e riqualificare il sistema ambientale e paesaggistico della Stura per integrare la conservazione di conservazione con azioni di sviluppo in un'ottica di sostenibilità e costruire e ricostruire sistemi di valori ambientali e paesaggistici lungo il territorio fluviale integrando i singoli progetti di compensazione e mitigazione l'aspetto centrale di questa sperimentazione sta nell'aver legato le azioni di compensazione che normalmente venivano avviate in modo singolo e in una logica diciamo non strategica all'interno della cornice strategica e del contratto di fiume della Stura e quindi accanto al contratto di fiume della Stura attraverso il processo di condivisione si è condiviso con gli attori del territorio una strategia un piano sistemico e integrato delle compensazioni ambientali per contribuire a costruire le reti verdi e blu e quindi contribuire a valorizzare la biodiversità nel territorio questa logica la logica sperimentata nel piano delle compensazioni ambientali che è un po' un unicum in questo senso è stata avviata a partire dal piano territoriale di coordinamento provinciale che identifica la compensazione e le misure di compensazione e mitigazione come strettamente legate alla realizzazione della rete ecologica locale attraverso l'attività di ricerca svolta negli anni si è definito e a partire soprattutto dalle esperienze internazionali su questo tema un metodo che parte dalla lettura riconoscimento e valutazione e classificazione della rilevanza ecologica delle aree che poi entreranno in gioco nel piano di compensazione che vengono classificate in funzione della loro rilevanza naturalistica che costituisce quindi la prima fase della costruzione del piano la seconda fase porta a definire misure possibili per il miglioramento per la tutela del valore ecologico e paesaggistico per ciascun'area individuata la terza fase converge nella definizione delle priorità di intervento la quarta fase nella scelta la fase più operativa delle aree di compensazione la quinta si passa all'attuazione la progettazione delle misure di compensazione e poi una volta realizzata la compensazione si dovrà naturalmente aggiornare il valore naturalistico delle aree su cui si è attivato questo processo di valorizzazione ecologico-ambientale il piano delle compensazioni ambientali identifica le aree che entrano nella logica sistemica della compensazione in aree per la riqualificazione del territorio in aree per la tutela della conservazione del territorio naturalmente per le aree di riqualificazione avremo delle aree che sono di maggior urgenza le aree più degradate e si incrocia il parametro della limitata qualità ecologica e naturalistico-ambientale con la proprietà delle aree sia essa pubblica o privata che rende maggiormente facile l'avvio del processo di trasformazione di quel singolo nodo locale per quanto concerne invece la tutela si fa un processo inverso quindi si selezionano le aree che hanno una maggior rilevanza dal punto di vista della compensazione incrociando sempre il valore ecologico-ambientale con la proprietà pubblica o privata delle aree nel piano delle compensazioni della stura di lanzo sono stati identificati quindi due interventi che seguono al metodo di lettura interpretazione e valutazione delle aree interventi di riqualificazione e interventi di tutela e toccano le aree perifluviali quelle lungo i corsi d'acqua che necessitano di essere riqualificate e tutelate le aree interne al parco della Mandria per esempio con azioni di rinaturalizzazione o rimboschimento quindi per rafforzare il valore ecologico e di biodiversità di questo territorio o interventi di tutela per le aree che completano la rete ecologica che vengono individuate a partire dalla rete di canali vi faccio un esempio applicativo nel comune di San Maurizio in cui è stata identificata un'area da riqualificare un'area che è caratterizzata da un lago a pesca sportiva e dalla presenza di un impianto di trasformazione di materiali inerti che è interessante perché come area da tutelare e quindi come area umida presso il lago che ha un alto valore naturalistico ambientale un habitat favorevole alla fauna e alla vegetazione autottona e che può essere valorizzata attraverso la trasformazione anche dell'area ad attività estrative attraverso naturalmente una ridefinizione una variante al piano regolatore e per quest'area si propongono alcuni interventi che necessitano di alcuni passaggi l'acquisizione di entrambe le aree da parte dell'ente pubblico perché sono di proprietà privata la delocalizzazione dell'attività produttiva confinante con l'area umida la variazione della distillazione d'uso del piano regolatore e poi azioni ed interventi specifici di trasformazione dell'area la messa in sicurezza dell'area umida il rimodellamento morfologico delle sponde dei laghi ai fini di una loro rinaturalizzazione tutte azioni che sono state proposte nell'assemblea di bacino del contratto di fiume del Torrentestura e discusse e che proprio per la correlazione tra piano delle compensazioni ambientali e contratto di fiume potranno essere oggetto di una trasformazione quindi il piano delle compensazioni ambientali è uno strumento attuativo importante del piano di azione del contratto di fiume della Stura di Lanzo ed è uno strumento capace di produrre resilienza di contribuire alla mitigazione e all'adattamento climatico dei territori fluviali anche perché è concepito la scala di bacino ideografico e consente quindi di fare sinergia con azioni di valorizzazione del sistema territoriale perché si basa sulla concertazione territoriale per consentire quindi l'avvio di meccanismi anche di valorizzazione dei sistemi basati sulla perequazione territoriale coinvolgendo in strategie d'area vasta più comuni del territorio che possono condividere e scegliere di dare attuazione allo scenario previsto dal piano delle compensazioni del contratto di fiume e si basa ed è stato costruito sulla cooperazione tra i comuni secondo una visione di tipo sistemico a scala sovralocale naturalmente sono essenziali in questo processo di valorizzazione di tipo ecosistemico ed ecologico le sinergie con il contratto di fiume che è quadro di riferimento strategico condiviso per la valorizzazione dell'ambiente e per la definizione delle misure di compensazione secondo un approccio non locale o localistico ma secondo un approccio integrato e sistemico quindi abbiamo visto diversi esempi in cui il contratto di fiume è uno strumento importantissimo per la valorizzazione dei territori accanto alla bibliografia di riferimento che trovate nel testo negli anni su questi temi ho scritto alcuni volumi con una collega Planning and Architecture Searching for an Approach nel 2012 e Topics and Methods for Urban and Escape Design con Springer nel 2016 in corso e futura sarà una pubblicazione con Città Metropolitana di Torino della sperimentazione sul piano delle compensazioni ambientali vi ringrazio a presto per la visione per la visione la visione per la visione avic estilo della visione di torno